Finisce 0-2 tra l'Agnone e la Miternina al Civitelle, due squadre scese in campo con la paura di giocare che non regalano grandi emozioni in questa decima giornata di andata. Per avere un sussulto dovremo aspettare ben 26 minuti quando su calcio di punizione Torbidone ci prova di testa ma Biasella fa in tempo a salvare sulla linea di porta. Al 34esimo prova a rispondere l'Agnone con Pagliuca e il suo tiro dal limite dell'area. La mezza papera di Di Fabio fa sperare ma alla fine il numero 1 ospite intercetta la palla in estremis. Al 44esimo l'episodio che cambierà il corso della partita. C'è Mischia in area e un tocco di mano di Natalini. Il direttore di gara Politi della sezione di Lecce assegna senza esitazione il rigore. Tra le proteste dei giocatori Granata, Natalini su tutti che si becca il cartellino rosso. Dal dischetto intanto Torbidone non sbaglia. Sul vantaggio ospite si va negli spogliatoi. Con le immagini montate da Danilo Scarinci siamo alla ripresa. L'Agnone tenta di agguantare il pareggio con Ricamato da buona posizione che però non inquadra lo specchio della porta. Pal più nulla fino alla mezz'ora quando Torbidone tenta il raddoppio. Biasella para e sulla ribattuta Santilli becca la traversa. Al 34esimo erroraccio della difesa Granata Torbidone avanza tutto solo ma trova Biasella ad anticiparlo. Qualche secondo dopo è Lavornia che riesce a superare Di Fabio ma la sua posizione è irregolare e il suo gol viene annullato. Al 37esimo anche la Miternina rimane in 10 per il rosso diretto a Lenart che commette fallo su Petrone. La partita si chiude al 46esimo con il raddoppio della Miternina. È una difesa Granata che lascia ad Alessandris tutto solo e lui con un tiro da buona posizione insacca il gol del 2-0. La partita si chiude tra il nervosismo generale e qualche battuta di troppo da parte di Mister Angelone che contribuisce a scaldare gli animi nello spogliatoio. Nulla di grave, tutto rientra nella normalità in pochissimi minuti. Certo è che questo per i Granata è davvero un momentaccio ma ha anche la voglia di riscatto. Non manca. Domenica prossima, se tutto va bene in campo, dovrebbero esserci anche Ibe e Cantoro e chissà che una buona spinta non arrivi anche da loro. Grazie.